Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter, queste sono le indiscrezioni di mercato che stanno circolando da qualche giorno su internet io ho un pochino aspettato per fare i video perché prima di tutto bisogna sondare il terreno e vedere effettivamente se la notizia è vera perché i DJI e i ragazzi ne abbiamo viste a bizzeffe, però sembra che tutto sia regolare, sembra che appunto Kolarov vestirà la maglia nerazzurra il prossimo anno e volevo dire semplicemente la mia, Kolarov è stato un giocatore importantissimo per la Roma, ancora prima importantissimo per la Lazio e per il City comunque dove non ha trovato tantissimo spazio, mi è sempre piaciuto, io al fantacalcio tanto per dire lo prendevo sempre perché qualche gol e qualche assist te lo garantiva sempre, abile giocatore a tirare, a caricare le punizioni quindi partiamo dal presupposto che a me Kolarov è sempre piaciuto parliamo adesso invece dell'operazione dell'Inter, perché l'Inter vuole Kolarov? questo secondo me è qualcosa che riguarderà più che altro il rinfoltimento della rosa che Conte aveva chiesto già da tempo Conte appunto abbiamo visto che ha un modo di intendere il calcio dato da una espressione massima di quantità a livello dispendioso di energie mentre dal punto di vista qualitativo abbiamo visto che lui non ha tante pretese questo appunto fa capire anche perché Eriksen sta molto spesso in panca a Conte interesse un giocatore sì di qualità, sì ha bravo ma che corra, che mangi le caviglie agli avversari che rubì tanti palloni, uno alla Vidal sostanzialmente, un alagantè per dire che con i piedi non saranno pirlo però hanno quella cattiveria agonistica e anche una certa discreta qualità Kolarov, tornando al discorso Kolarov lui appunto nell'ultimo periodo non giocava proprio più come terzino alla Roma come esterno di sinistra perché sicuramente forse col fiato non ce la fa più non ce la faceva più e quindi giocava fondamentalmente come difensore centrale nel caso in cui la Roma magari avesse fatto la difesa a tre in qualche partita appunto è accaduto e giocava a sinistra quindi prendendo il posto di alcuni difensori appunto della Roma non è che mi faccia impazzire quest'idea cioè un giocatore che è comunque nato come terzino che ha dato il massimo come terzino il terzino purtroppo non lo può far più per una questione di fiato ragazzi io non lo vedo terzino da tantissimo tempo cioè non mi ricordo l'ultimo partito in cui ho visto Kolarov giocare tantissimo a sinistra anche perché la Roma quest'anno non è che abbia fatto benissimo non sono proprio convinto di questa operazione di mercato vi devo dire la verità perché perché avrei preferito dato che già a sinistra abbiamo un veterano un giocatore che ha la sua età bella avanzata stiamo parlando di Young che tanto Young poi non è 35 anni adesso 36 cioè prendere un altro 34 anni a sinistra non la vedo come un'operazione tanto utile alla causa se però mi dite Kolarov viene preso per la panchina per infultire allora siamo d'accordissimo raga ma se i titolari devono essere Young e Kolarov a sinistra mi storce un po' il naso raga perché non mi piace questa cioè queste fasce questa fascia a sinistra non mi garba tantissimo anche perché abbiamo visto che Young ha i suoi limiti e Kolarov avrà i suoi limiti a sinistra quindi se Kolarov viene preso come difensore centrale per sostituire bastoni a me può stare anche bene ma sull'esterno raga io voglio qualcuno che corra qualcuno alla Kimi sostanzialmente cioè prendetemi non so qualcuno che vada forte a sinistra un digne per dire un giocatore che mi garantisca una certa corsa sulla sinistra e che abbia anche la spinta in avanti cioè nel senso Kolarov quest'anno non è che mi abbia convinto tanto appunto a livello di spinta spero che sia soltanto perché alla Roma non si trovava più bene ma io non la vedo proprio così raga sappiamo che Conte comunque ha rivalutato un tipo come Candreva che noi lo davamo per cotto morto e poi si è sparata la stagione migliore da quando è che è l'Inter fondamentalmente con Antonio Conte spero che sia lo stesso per Alexander Kolarov voglio essere ottimista io spero che non sia definitiva la fascia sinistra con Young, Kolarov e poi uno fra Biraghi e Dalbert poi c'è anche Samoa vabbè ma che già l'abbiamo venduto si può dire perché sinceramente non mi garba tanto ecco io spero che a sinistra arrivi un altro giocatore veloce, pronto magari non per forza giovanissimo ma neanche che abbia 40 anni perché ragazzi Kolarov e Young insieme fanno 70 anni è già tutto è già tutto niente questa è la mia onestissima opinione ovviamente aspetto la vostra però voglio concludere il discorso parlando anche del mercato dell'Inter con Kolarov l'Inter sta capendo sta praticamente facendoci capire che sta ascoltando Conte cioè con questa operazione di mercato fatta, veloce, così, proprio boom 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 preso, vogliamo Kolarov lo prendiamo subito stiamo capendo che Zhang sta praticamente facendo tutto quello che Conte gli sta chiedendo adesso questa è un'arma a doppio taglio per Conte e anche per noi tifosi perché nel momento in cui l'Inter dovesse fallire prossimo anno, facciamo corna, gli scungiti del caso allora è un fallimento anche di Conte quindi questa è un'arma a doppio taglio perché io sto vedendo un impegno da parte dell'Inter clamoroso raga clamoroso ma da quant'è che non si vede sui giornali che l'Inter è praticamente su mezzo Europa vuole Kantè vuole Giego vuole Tonali vuole tutti Don Belè Kumbulla cioè l'Inter veramente sta facendo di tutto e già si è visto con l'incontro che hanno fatto appunto con Conte per dare una squadra competitiva a Conte cioè Conte vuole Conte ha questo è secondo me il succo è il riassunto del mercato dell'Inter Conte chiede noi diamo noi cerchiamo di dare subito anzi per evitare che lui sbrocchi ma non mi piace tanta questa cosa perché sembra che il cocco facciamo tutto perché poi si arrabbia perché io spero che Conte quest'anno non faccia più delle uscite come l'anno scorso cioè l'anno che è passato perché veramente già mi sta un po' qui perché ho capito la prima ho capito la seconda ho capito la terza ma sempre che si lamentava ragazzi sempre sempre ogni partita si lamentava e quello non va bene e la dirigenza non è presente e questo non mi piace e questo non va bene non basta basta quindi Conte sta avendo il contentino scusa del gioco di parole sta avendo quello che sta chiedendo sono sicuro di questo perché veramente gli abbiamo preso Ericsson gli abbiamo preso Lukaku adesso gli prendiamo Kolarov poi si vedrà fra uno fra Vitale dicono anche che cosa sia cosa fatta ma io non mi spingo più di tanto stiamo dando tutto quello che lui chiede certo non chiederà a Messi poi io incrocio le dita non si sa mai però stanno cercando di creare una squadra competitiva per Conte quindi se l'anno prossimo si lamenta io vi giuro che lo odierò a morte lo odierò a morte perché non si può andare a praticamente insambiare il lavoro della società quindi ho detto la mia su Conte e su Kolarov io aspetto la vostra ovviamente qui sotto nei commenti commentate inondatemi di commenti questo è il secondo video che faccio in cui parlo liberamente con voi a breve arriverà nel caso in cui appunto verrà ufficializzato il video sulle 10 curiosità su Kolarov a 400 mi piace qui sotto uscirà appunto questo video sulle 10 curiosità su Kolarov quindi mi raccomando ragazzi condividete il video mi piace iscrivetevi al canale se non lo avete fatto e attivate la campanellina mi raccomando fatelo ci vediamo presto con un altro video ciao ciao